La situazione è molto difficile, ho appena adesso finito di parlare con i tuoi colleghi dicendo che l'unica cosa, è inutile commentare questa partita, è l'unica cosa che sono qui a metterci la faccia per chiedere sui tifosi e chiedere sulla società per come abbiamo giocato e per come abbiamo perso questa partita, non si può andare in campo in questa maniera, questa è l'unica cosa che mi sento di dire, poi possiamo parlare della partita, possiamo analizzarla, ma non credo che sia il caso, di cosa parliamo, di calcio oggi, non penso. Non lo so, anche perché noi venivamo da una buonissima partita a Grosseto, quindi è strano capire, è lì dove dobbiamo lavorare, sul fattore mentale, perché le squadre che hanno queste alte basse vanno poco lontano.